Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferry Rose preferita ai Meloki e in questo video voglio parlarvi di tutta una serie di eventi molto interessanti che vanno nel luogo nelle prossime giornate. Cominciamo con The Most Dangerous Game, si tratta di un evento che sarà organizzato dal 20 al 24 ottobre, sarà possibile partecipare sia online che in luogo presso la Cineteca Milano Mic. Piccola nota aggiuntiva, mi è stato fatto presente che tantissimi milanesi non sono a conoscenza dell'esistenza di Cineteca Milano Mic, per cui a costo di suonare scontata e ridondante ci tengo a precisare che Cineteca Milano Mic si trova a Milano, per cui qualora non conosciate la sua posizione o l'indirizzo per raggiungerla, trovate l'indirizzo in diverse delle immagini promozionali che appariranno a schermo durante questo video e comunque sul sito ufficiale, al quale vi rimando svariate volte nel corso del video. Per tutta la durata di questo evento sarà possibile visitare il museo interattivo gratuitamente, ma per necessità organizzative e chiaramente di prevenzione, nel caso di alcune attività sarà indispensabile prenotare in anticipo. Alcune di queste sono ad esempio la proiezione di film a tema, ad esempio avremo Tron che sarà proiettato il 20 alle 15, o The Cat and the Canary, La Casa degli Spettri, il 22 alle 21. Oltre a questo ci saranno anche dei panel che vedranno partecipare delle realtà impegnate attivamente e in maniera diversa all'interno del mondo videoludico, per quanto si tenderà ad avere un occhio di riguardo principalmente verso il pubblico più giovane, proprio perché si punta alla sensibilizzazione. Ad esempio avremo la fondazione Vigamus, la start-up di sviluppo videoludico Mad Pumpkins Game Studio, come anche Women in Games Italia, un'associazione no profit che lavora proprio per la diversità all'interno del settore videoludico. The Most Dangerous Game quindi vuole fondere, affiancare due realtà non più così diverse, videogiochi e cinema, che sempre più spesso toccano punti, tematiche e in generale anche sensibilità comuni. Quindi avere da una parte questa rassegna cinematografica con proiezioni di film a tema, più tutta questa serie di incontri, tra i quali non mancherà la partecipazione dei vincitori della scorsa Cine Game Jam, di cui parleremo fra poco, serve proprio a sensibilizzare il pubblico di entrambi media per far conoscere e valorizzare titoli e progetti che si distaccano leggermente dal classico prodotto commerciale e che si legano un po' più al concetto di arte. Durante l'evento verranno anche mostrati alcuni videogiochi, come l'Applied Game, Behind the Light, che è un titolo formativo e informativo, dedicato al pioniere del cinema italiano Luca Comerio. Non bisogna però dimenticare che oltre a tutta questa attività, organizzazioni e panel, come ho detto a inizio video, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Interattivo del Cinema di Milano. E nonostante il nome possa trarre in inganno, questo museo contiene all'interno anche diversi pezzi della storia videoludica, come dei cabinati arcade dei grandi classici e questo insieme a tante altre cose, come realtà virtuale, potrebbero interessare dei visitatori di tutte le età. Ultimo, ma non meno importante, nel corso del weekend del 23 e del 24 ottobre ci saranno dei workshop tenuti da Samuele Sciacca, che aiuterà tutti i partecipanti a creare un videogioco partendo proprio dal linguaggio dei coding. Queste però sono alcune delle attività che richiedono appunto una prenotazione, visto che non vi sono limiti di età, però dovranno esserci fino a un massimo di 40 partecipanti, per cui qualora siete interessati dovete prenotare in anticipo. Ma The Most Dangerous Game è soltanto l'assaggio, l'inizio, l'antipasto, praticamente un pre-festival di tutto quello che verrà dopo che vi sto per raccontare. Innanzitutto mi riferisco alla quattordicesima edizione di Piccolo Grande Cinema, che sarà in corso dal 31 ottobre al 7 novembre, ma soprattutto la seconda edizione della Cine Game Jam. Vi parlerò di tutto fra pochissimo, però vi anticipo che per quanto riguarda la Cine Game Jam le iscrizioni saranno aperte fino al 29 ottobre, per cui se siete interessati trovate in descrizione al video e nel commento in evidenza il link per accedere al sito ufficiale dove trovate tutte le informazioni in generale proprio di tutti gli eventi di cui vi sto per parlare e il format per iscriversi. Però una cosa per volta, cominciamo con Piccolo Grande Cinema, esattamente come The Most Dangerous Game sarà appunto organizzato presso la Cineteca di Milano e potrete partecipare tanto fisicamente in loco quanto online. E saranno presentati in anteprima 20 titoli selezionati proprio da Cineteca Milano. Un altro argomento molto interessante di cui si parlerà sarà proprio il futuro del cinema, visto che è un argomento molto attuale un po' per il evoluzione tecnologica, vedasi ad esempio i servizi in streaming, questo è un periodo un po' buio per l'arte cinematografica. È inevitabilmente un momento di svolta, per cui si darà voce a ragazzi e ragazze proprio per capire cosa queste persone si aspettano dal cinema del futuro, se pensano che ci sarà ancora spazio per il cinema nel futuro, di come questo dovrà per forza di cose evolvere e adattarsi a questa nuova situazione, oltre ovviamente a una discussione su cosa potrebbe nascere, e sta già nascendo, dall'unione tra cinema e videogiochi e cinema in realtà virtuale. Inoltre questa cosa mi fa rosicare tantissimo perché sarei assolutamente voluta andarci. Per chi potrà partecipare fisicamente a Piccolo Grande Cinema sarà possibile vedere coi propri occhi la mano del leggendario King Kong, quella realizzata da Carlo Rimbaldi, premio Oscar proprio per gli effetti animatronici, proprio quelli, proprio quella utilizzata nel film storico del 76. È proprio quella, quella originale ed è assolutamente la prima volta che verrà ospitata all'interno della Cinateca di Milano. Inoltre proprio per festeggiare questa importante presenza sarà presente un allestimento a tema all'interno del Museo Interattivo. Quindi ribadisco se siete interessati alla partecipazione a questo evento trovate il link, commento, in evidenza e in descrizione dove trovate tutte le informazioni. Ma non finisce qui visto che vi ho accennato alla Cinem Game Jam che avrà luogo dal 29 ottobre al 5 novembre, quindi è un evento interno a Piccolo Grande Cinema. Stiamo parlando della seconda edizione di questo evento ed è un contest aperto a gamer, programmatori, artisti che siano in erba o magari con un po' di esperienza o anche semplicemente curiosi. I partecipanti che dovranno avere un'età compresa fra i 12 e 35 anni, quindi penso che molte le persone che mi seguono ci arrivano pelo, comunque dovranno realizzare in sette giorni un videogioco a tema ovviamente cinema. È possibile tanto partecipare da soli che è presentarsi già in un gruppo che sia completo o meno. Vi ho già detto che le iscrizioni saranno aperte fino al 29 ottobre, quindi se siete interessati dovete assolutamente iscrivervi prima di quella data. Lo scopo del contest, oltre a vincere ovviamente, sarà anche quello di divertirsi, di imparare cose nuove, magari conoscere nuove persone, chissà, ma anche e soprattutto rendersi conto proprio con le proprie mani di quanto il cinema abbia influenzato i videogiochi, ma anche viceversa. Un piccolo dettaglio che magari potrebbe anche interessarvi è che sono stata invitata a partecipare alla giuria di questa seconda edizione di Cine Game Jam e che quindi avrò modo di poter dire la mia al momento di visionare, scegliere e premiare i migliori di questo evento. Per cui fate i bravi, mi raccomando, nei commenti. E questo è quanto. Vi rimando per l'ennesima volta al link al sito dove trovate tutte le informazioni, degli approfondimenti. Ho comunque fatto un escursus molto rapido. Ci saranno tantissimi panel, tante proiezioni, tanti dettagli che ovviamente non ho inserito all'interno di questo video. Ricordatevi di iscrivervi entro il 29 ottobre se siete interessati alla Cine Game Jam. E detto questo, fatemi sapere nei commenti se conoscevate l'evento, magari avete partecipato alla prima edizione e un po' in generale cosa ne pensate di queste iniziative tutte italiane. Fatemi sapere, quindi io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video.